La comunicazione integrata oggi parte sempre comunque in termini di campagne, di ideazione di campagne olistiche dalla Big Idea. La Big Idea è imprescindibile per quanto concerne la creazione di una strategia di comunicazione davvero efficace in grado di lavorare in forma cross media, integrata su tutti i media, a partire dai media portanti come la televisione e la radio fino al digital e al social. L'altro aspetto fondamentale a mio avviso è la qualità dei contenuti. La qualità dei contenuti fa la differenza. Molto spesso in nome del digital si realizzano dei contenuti di bassa qualità e questi a mio modo di vedere, al di là degli aspetti virali, spostano poco e nulla. L'integrazione tra media, creatività e tecnologia parte da un concetto che deve essere estremamente efficace e raggiunto in forma impattante e imprescindibile è che l'intercettazione del target attraverso il customer journey, cioè avere la capacità di utilizzare i vari media all'interno del customer journey nella condizione in cui il cliente è più recettivo al messaggio pubblicitario è fondamentale. L'utilizzazione dei dati oggi serve effettivamente a questo aspetto che rimane fondamentale per il successo di ogni progetto di comunicazione.